Se vediamo la cosa fino in fondo fondamentalmente stiamo togliendo dei diritti anche alla pugile algerina a cui stiamo puntando il dito ma lei fondamentalmente non ha niente che vada contro le regole che ha imposto il CIO e tutta la regola sanitaria. Sono vicino alla nostra amatissima federazione, sono vicino a tutti i nostri atleti. Aldo Nicchiaretino, ex pugile attuale componente della federazione pugilistica italiana e titolare assieme al fratello Adriano della storica società BoxNicchi fondata dal Babbo Santi ci mette la faccia e commenta con noi quello che è diventato, secondo molti, più un caso mediatico che altro. Parliamo dell'incontro alle Olimpiadi di Parigi tra l'Algerina e Manicheliff e l'italiana Angela Carini. Pochi secondi sul ring nella categoria 66 kg Welter, poi l'atleta azzurra ha annunciato la decisione di ritirarsi contro la rivale iperandrogina. Al momento posso solo che essere solidale con la nostra grandissima Angela Carini che io stimo e adoro anche per la storia che si porta alle spalle, come in tutti gli altri sport. Sono comunque degli eventi in cui si gareggia, non c'è una seconda chance, si deve dare tutto e tante sono le dinamiche che dobbiamo tenere in considerazione. Non è semplicemente il fatto che non si è allenato, non posso credere che un atleta va dalle Olimpiadi non allenato perché noi abbiamo degli ottimi CT, abbiamo un'ottima nazionale, i ragazzi erano preparatissimi. Le dinamiche, quando si dice sempre, quando si sale questi tre gradini, sono tantissime le dinamiche che dobbiamo andare ad affrontare. La vicenda ha riacceso il dibattito sul grado di inclusività nelle competizioni agonistiche di alto livello, forse perché l'atleta era già finita sotto i riflettori mediatici ai mondiali 2023, quando venne squalificata perché, secondo l'International Boxing Association, ente sportivo non riconosciuto, dal Comitato Olimpico Internazionale, i test condotti sulla pugile algerina avrebbero evidenziato un livello eccessivo di testosterone e la presenza di cromosomi maschili nel DNA. Una vicenda, insomma, che secondo molti non ha proprio nulla a che fare con i diritti negati del mondo LGBT. È stata la stessa Angela Carini, nelle scorse ore, a giustificare con una sola ragione, quella sportiva, il suo ritiro. Lo sport inclusione, le Olimpiadi ce lo hanno insegnato perché, non so se molti sanno, ma le Olimpiadi, le Olimpiadi, le vecchie Olimpiadi, quindi le Olimpiadi antiche, che partono dal 996 a.C., naturalmente includevano tutti, ma soprattutto si fermavano le guerre. Quindi questo è un segno positivo, i cinque cerchi significa inclusione. Quindi io penso che sia un segno bellissimo il fatto dell'inclusione, ma questo non deve togliere assolutamente il rispetto e soprattutto la tutela ai nostri atleti. Ecco, alle sue spalle un ring vuoto, siamo in agosto. Da settembre riprenderà a pieno l'attività della box nicchi. Voi avete tanti ragazzi, ma anche tante ragazze. Abbiamo lavorato tanto in questi 30 anni. Oggi abbiamo l'orgoglio di dire che abbiamo ben 27, se non erro, bambini tra i 5 e i 13 anni. Poi abbiamo 23 pugili IBA, quindi sono i pugili quelli dilettanti. E poi abbiamo anche, da quest'anno abbiamo intrapreso la nuova disciplina della Gym Box, che erano anni che noi non ci affacciavamo a questa disciplina. E abbiamo più di 60, diciamo, agonisti che portano in altri colori della nostra società, ma soprattutto della nostra società. Di questo ne andiamo fieri ed orgogliosi.